Inizia questa sera la stagione concertistica dell'Associazione Giovanile Iniziative Musicali che si pone artisticamente in continuità con il lavoro svolto in questi ultimi due anni dall'Agimus sezione di Catanzaro. La squadra è rimasta sempre la stessa, l'Associazione si avvale della preziosissima direzione artistica della musicologa e pianista Amalia Niedermann. I progetti che sono in piedi sono interessanti, sono ricchi di arte e di interesse per un vasto pubblico. Iniziamo questa sera con il duo di pianoforte e violino ma ci saranno altri eventi prossimi avremo il canto gregoriano nel mese di dicembre con le ancilledomini, avremo una band di blues perché vogliamo anche spaziare nei vari settori della musica, dalla musica classica alla musica moderna e anche la musica jazz e blues. Quindi tenteremo di offrire ovviamente al territorio una vasta gamma di offerte sperando sempre di suscitare l'interesse dei giovani perché la nostra mission, quella principale è quella di attirare i giovani all'ascolto della musica colta, della musica importante. L'evento iniziale promette molto bene perché abbiamo la proposta di due giovani artisti calabresi che già però hanno alle spalle un fitto curriculum, propongono un programma interessantissimo che spazia dalla musica di Brahms a quella di Schumann a quella di Ravel e hanno i due artisti comunque scelto dei brani molto particolari una prima sonata di Brahms scritta in collaborazione con Dietrich e con Schumann in onore del violinista Joachim poi una sonata particolarissima di Schumann dove viene fuori proprio l'anima melanconica dell'Eusebio e la passione di Florestano, queste due anime che convivono sempre nella musica di Schumann il concerto si conclude con la sonata di Ravel Ravel musicista impressionista, molto sensibile però anche alla musica asiatica, jazz e infatti uno dei movimenti non a caso porta proprio il titolo di Blues e noi speriamo che questa proposta piaccia al nostro pubblico e speriamo che prossimamente le nostre manifestazioni siano sempre più ricche di pubblico e il prossimo appuntamento il 28 novembre 2015 presso la chiesa di San Pio X alle ore 19 per onorare il ricordo, infatti si tratta di una cinque giorni il ricordo del grande nostro sacerdote Don Giorgio Bonapace Buongiorno No Grazie a tutti.